un saluto a tutti voi miei cari amici ascoltatori di italiano in podcast e ancora una volta benvenuti ancora una volta grazie mille per ascoltarmi grazie mille per ascoltare questo nuovo episodio oggi il registro di mattina quindi è presto ma potrebbe esserci qualche rumore ieri sera martedì sera era un po stanco ma non sono passate molte ore dalla fine della giornata è successo altre volte quindi sapete bene che ogni tanto decido di fare un nuovo episodio al mattino presto e quindi benvenuti all'episodio numero 620 di martedì 24 gennaio 2023 non fermo la registrazione voglio fare un episodio leggero non troppo lungo questa è la nuova idea la nuova filosofia del di di questo nuovo anno cercare di non fare puntate troppo lunghe e noiose per questo ho eliminato la mia introduzione tutti i giorni la farò solo ogni tanto qualche volta ma il mio consiglio di gustarvi italiano in podcast rilassati in un posto tranquillo e in un momento tranquillo rimane quindi questo consiglio è sempre valido come anche il consiglio di non stressarvi troppo e quindi di non fermare l'ascolto ad ogni parola che non capite arrivate in fondo rilassatevi cercate di seguire il senso delle mie parole e poi quando avete ascoltato quando avete finito il primo ascolto tornate indietro negli ascolti successivi e riempite un po i buchi che avete lasciato vedrete che questo funzionerà molto meglio per migliorare la vostra capacità di ascolto di comprensione e anche di conversazione secondo me ok oggi facciamo un po il riassunto di questa giornata di questo martedì che è stato un buon martedì in mezzo a tanti giorni di brutto tempo una piccola tregua come un po una guerra insomma con il tempo in mezzo a tutte queste giornate di neve freddo pioggia mare in tempesta oggi è stato un giorno è stata una giornata abbastanza tranquilla anzi senza abbastanza molto tranquilla con un bel sole che ha riscaldato la giornata questo almeno nella mia zona quindi la giornata è iniziata male con cattivo tempo fino a più o meno le nove del mattino ma poi si è aperto il cielo e sul mio golfo io vivo su un piccolo golfo sul mare si è si è aperto il cielo come dicevo ed è spuntato questo bellissimo sole che ci ha riscaldato tutti e mi ha dato un po di energia perché vi avevo raccontato vi ho raccontato che nel fine settimana insomma sentivo un po di energia scarsa nel senso poca ma questo martedì mi ha regalato un po di energia nuova e quindi le cose vanno meglio sì mi sento molto meglio molto carico il mio tendine di achille sembra funzionare molto molto meglio c'è qualche problema quando è freddo al mattino quando mi sveglio ma diciamo che più o meno sento migliorare le cose ora dopo ora probabilmente ritornerò a correre nel fine settimana ma questa giornata di oggi è stata caratterizzata da un'altra situazione medica è una giornata iniziata molto presto ieri sera ho finito tardi lunedì sera ho finito tardi parlerò di oggi come martedì ok ieri era lunedì lunedì sera ho finito tardi e mi sono addormentato un po tardi ma questa mattina mi sono svegliato presto perché avevo un appuntamento una visita medica alle 9 del mattino in un ospedale di una città vicina alla mia città più importante forse più turistica più carina del mio golfo e quindi sono uscito anche abbastanza presto per cercare di arrivare in tempo all'appuntamento ma non mi sono stressato molto perché questo è un aspetto dell'italia che voglio insegnarvi voglio voglio raccontarvi ecco molto spesso soprattutto nel sistema pubblico questi appuntamenti non sono davvero molto precisi con gli orari avere un appuntamento alle 9 del mattino non significa vedere il dottore alle 9 del mattino infatti io so tutto questo e me la sono presa comoda senza troppo stress sono arrivato alle 9 e 30 e ho trovato una fila di persone che aspettavano qualcuno era prima di me qualcuno dopo di me ma a quell'ora alle 9 e 30 le visite ancora non erano iniziate in realtà anzi erano iniziate da pochissimo ma con un ovvio ritardo il mio appuntamento delle 9 infatti è slittato cioè piano piano è stato spostato alle 10 e 30 quindi un po di attesa davanti alla porta nella sala d'attesa nella piccola sala d'attesa e dalle 9 il mio turno è arrivato alle 10 e 30 niente di strano tutto abbastanza normale è un po frustrante quando si ha fretta ma diciamo che siamo abituati a questo sistema c'è un'ora ma poi si si aspetta insomma il turno in modo molto tranquillo fuori alla porta il problema è che bisogna programmare più tempo del previsto per fare una visita quindi se c'è una visita di 30 minuti anche meno molto spesso bisogna mettere in conto il tempo di arrivare il tempo di attesa il tempo di andare via tornare a casa o in ufficio quindi in pratica può andare via quasi tutta la mattina di lavoro e questo purtroppo è un aspetto un po negativo però l'aspetto positivo è che ancora si può avere un'assistenza di un buon livello il prezzo da pagare anche questa attesa un po lunga e questa mancanza di precisione però vi assicuro che i nostri dottori molto spesso sono sono molto bravi come il caso di questa dottoressa che io conoscevo già una pneumologa lei si occupa dei polmoni della respirazione la conoscevo perché l'ho incontrata per mia madre per delle consulenze su mia madre questa volta però riguardava me e questo mio problema con il sonno durante la notte ho queste difficoltà durante la notte oltre a essere un po rumoroso quando dormo diciamo che c'è questa queste pause nel respiro che sono un problema problema medico quindi questa è una cosa che capita sempre a più persone a molte origini probabilmente le soluzioni non sono moltissime ma è necessario fare una sé una serie scusate di esami per capire il problema per trovare la soluzione migliore personalizzata del problema in questo caso la dottoressa mi ha fatto una piccola intervista mi ha chiesto delle mie abitudini mi ha chiesto della mia storia medica clinica medica in realtà e poi mi ha prescritto una serie di esami il primo e più importante con un dottore specializzato del sonno che deve fare una polisonografia questo dovrebbe essere il nome spero di non sbagliare poi controllerò meglio domani vi dirò se ho sbagliato anzi dopo domani polisonografia è un come un esame che si fa è un esame che si fa durante la notte con un dispositivo che è in grado di analizzare i nostri movimenti il battito del cuore la respirazione tutti i fattori che riguardano il nostro modo di dormire tutti gli aspetti e le variabili del nostro modo di dormire con questa analisi il dottore può fare una diagnosi cioè può individuare il problema in modo più preciso e a quel punto poi stabilire una terapia oppure una una cura per una terapia come è una cura o una soluzione perché in questo caso volte non c'è una vera terapia c'è una soluzione che migliora il problema con una specie di anzi con un dispositivo che impedisce questi queste pause nella respirazione e che può ventilare aria nel nel naso in modo da evitare questo problema questa è una delle soluzioni la dottoressa mi ha detto che sembra che i miei polmoni siano a posto ma mi ha consigliato degli esami anche sui polmoni perché nel passato sono stato un fumatore abbastanza accanito si dice cioè ho fumato un po' troppo ma ho smesso ormai da 13 anni quindi da molto tempo quindi devo fare degli esami anche per questo ma se sembra che i miei polmoni siano in ordine e poi un'altra visita con un altro medico che è quello che si occupa della gola del naso delle orecchie in italiano questo si chiama otorino laringoiatra ma una parola un po' difficile che j dice perfettamente e che però noi per comodità chiamiamo semplicemente otorino quindi lui deve farmi una visita questo medico e o dottoressa non lo so e deve controllare la forma della mia bocca del mio naso insomma cercare di capire se questo problema è causato appunto dalla forma di queste parti anatomiche del corpo oggi è un vocabolario assolutamente medico forse contenta a Wendy che mi dice sempre che lei a lei piace quando parlo di cose mediche perché è un dottore quindi forse a lei fa piacere e anche ad altri non lo so comunque il punto è questo devo fare una serie di esami per cercare di diagnosticare quindi capire bene qual è la natura del problema e poi decidere per le soluzioni migliori spero di di riuscire a ottenere delle risposte più certe insomma su questa cosa e spero ovviamente di migliorare la situazione questa visita non è durata troppo circa 30 minuti la dottoressa alla mia stima quindi io sono sono fiducioso ho fiducia in lei mi ha consigliato dei professionisti molto buoni quindi nei prossimi giorni prenoterò questi altri esami e cercherò insomma di fare queste indagini nel modo più veloce possibile questa polisonografia dovrò farla in una struttura privata perché è un centro privato perché per farlo con il sistema sanitario pensate ci possono volere due anni il costo non è eccessivo quindi ovviamente preferisco fare questo esame prima possibile questo è un altro aspetto un po negativo nel nostro sistema spesso gli esami che non sono esattamente molto urgenti come una polisonografia che è necessario certo ma ha una priorità più bassa spesso hanno liste d'attesa molto molto lunghe perché ovviamente ci sono tante persone che vogliono fare questi esami ma meno mezzi a disposizione per questo tipo di problemi chiaramente ok questa quindi è la mattina è saltata completamente sono arrivato a casa praticamente all'ora di pranzo e dopo un pranzo non troppo lungo molto leggero è iniziata la mia giornata di lavoro con diverse lezioni durante tutto il pomeriggio sono uscito solo una volta poi per comprare il cibo per i gatti jerry ha bisogno di mangiare e anche la sua amica un po più selvatica che non vive sempre dentro casa ma solo durante la notte non vi ho detto mai il suo nome il suo nome è neretta questo è un nome che gli ha che gli ha dato mia madre e quindi tutti e due devono mangiare anche loro e devo fare la spesa anche per loro ovviamente e diventano sempre più viziati questo questo non è buono ma che volete fare alla fine fanno parte della famiglia ed è giusto viziare un po anche loro comunque dicevo il pomeriggio è andato via insomma con queste lezioni cinque sì quattro cinque non mi ricordo comunque in mezzo a queste lezioni questa piccola spesa e anche la pubblicazione dell'articolo sulla casa di giulietta di cui vi ho parlato se potete andate a leggerlo sul mio blog e spero che sia un buon articolo per fare pratica ci sono anche gli esercizi uno di grammatica e uno sulla comprensione del testo quindi vi invito a dare un occhio un'occhiata ai contenuti che pubblico sul blog possono essere utili e secondo me sono di un buon livello insomma non è tempo sprecato ecco dare un occhio a quello che ho un'occhiata a quello che faccio anche sul blog non solo sul podcast dopo questi piccoli impegni la serata è stata chiusa con due lezioni facevano parte delle quattro lezioni in totale dal pomeriggio fino alla sera ne ho fatte quattro le ultime due con julie prima sempre molto simpatica e poi con jason con cui mi diverto sempre anche che mi ha raccontato un po' delle sue escursioni e della sua passione per la fotografia una giornata positiva finita non troppo un po' tardi no non troppo tardi ma non troppo tardi per i miei standard ma comunque oltre la mezzanotte come sempre quindi ho preferito rimandare il podcast alla mattina presto per farlo più in modo più rilassato e soprattutto per essere più fresco senza la stanchezza di questa giornata un po' piena ecco questo è quello che è accaduto in questo martedì 24 gennaio a paolo nel resto d'italia beh la il maltempo ci ha dato una tregua come vi ho detto ma già sono previsti è già previsto un nuovo maltempo nei prossimi giorni come vi avevo detto poi lo sciopero dei benzinaia iniziato durerà un po' di meno del previsto ma è non è stato evitato non c'è stato modo di evitare questo questo sciopero e questa è la seconda notizia del della giornata che vi volevo che vi volevo dare le altre riguardano ancora la cattura di matteo massina matteo messina denaro scusatemi ci sono altre notizie come questa una è una brutta notizia che riguarda il mio milan ha perso 4 a 0 con la lazio e ancora secondo in classifica dopo il napoli ma chiaramente questa brutta sconfitta non ci voleva ma una notizia che volevo darvi ma questa non è davvero una notizia è un problema che c'è per milioni di italiani in questi giorni e anche per me un fornitore di servizi di posta elettronica uno dei più utilizzati in italia che si chiama libero è praticamente fuori uso da due giorni io mi chiedevo dove fossero le email del mio dottore per le medicine di mia madre come ogni mese ma ho capito con una piccola ricerca che tutte le mie caselle di posta elettronica con questo fornitore che si chiama libero sono praticamente inutilizzabili in questo caso le mail che ho dato al mio dottore è proprio su questa piattaforma quindi milioni di italiani da circa due giorni non ricevono posta non possono accedere alla loro posta elettronica e quindi questo è un problema serio che spero risolvano presto per fortuna io ho diverse email per lavorare e per fare tutte le mie cose ma certamente su due email che ho con questa con questo servizio ci sono delle comunicazioni a volte importanti e questo è un problema serio anche per me tutto qui per quanto riguarda questo 24 gennaio oggi forse riusciamo a stare davvero in un tempo molto breve un esercizio di una durata giusta e questo mi fa molto piacere non mi resta semplicemente che dare una frase celebre di oggi una frase celebre che ho scelto ovviamente legata a questa questa situazione con il mio sonno la notte quindi una frase che riguarda il sonno dormire insomma questa importante parte della giornata che serve a ricaricare le nostre batterie che serve a darci energia per il giorno dopo in effetti questo problema per me probabilmente causa a volte la mancanza di energie giuste quando non dormo bene chiaramente è difficile il giorno dopo funzionare al cento per cento me la cavo bene con poche ore di sonno ma devono essere ore di una buona qualità di sonno comunque vanno alle chiacchiere la frase celebre che ho scelto per voi oggi è questa io vado a dormire ma domani torno giuro non è di nessuno l'ho trovata mentre sfogliavo alla ricerca di una frase celebre adatta è di un anonimo ma anonimo è uno dei personaggi più famosi al mondo perché molte frasi o molte cose sono anonime quindi è un personaggio conosciuto sicuramente da tutti quindi con questo anonimo voglio chiudere questo episodio perdonate un po' una cosa un po' stupida forse ma tra tutte quelle che ho visto sul dormire questa mi è piaciuta mi ha colpito ed è anche molto vera non è non è sera adesso ma ogni sera potrei dire a voi la stessa cosa io vado a dormire ma domani torno giuro ok basta così per questo episodio è ora di continuare di iniziare una giornata iniziare questo nuovo giorno dopo aver chiuso il martedì con il podcast anche se di mercoledì mattina ma questo è il momento in cui posso chiudere con il mio giorno precedente quando ho registrato l'episodio di italiano in podcast vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato vi ricordo di seguirmi se potete anche sulle altre piattaforme sui social questo mi aiuta molto a portare avanti il progetto i numeri sono importanti quindi se mi seguite su instagram su facebook o youtube o se seguite un po anche il blog questo fa bene a tutto il progetto quindi anche a italiano in podcast che ritorna giovedì con il prossimo episodio il numero 621 per il momento quindi è tutto è davvero tutto qui paolo come sempre vi saluta e ciao a tutti